Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, domenica 12 agosto. Ariete, domenica davvero con i fiocchi, quella che vi apprestate ad affrontare. Avete mille modi diversi per trascorrerla, fate appello alla fantasia. Il consiglio di un amico potrebbe essere l'elemento decisivo per organizzare una gita memorabile. Poro, Mercurio e il Sole non giocano in campo amico e si divertono a scompigliarvi piani e strategie costringendovi a ricominciare tutto da capo. La pazienza non vi manca, ma tra tanti imprevisti rischiate di perdere il filo e di fare confusione. Gemelli, prosegue il momento sì che vi vede impegnati a riscuotere successi in ogni settore dell'esistenza. Vorreste che questa fase durasse per sempre. Lavoro, interesse personali, amicizie e tutto fila col vento in poppa, oltre ogni più rosia aspettativa. Cancro, la giornata di festa inizia sotto auspici molto favorevoli e sembra destinata a trascorrere tra incontri con gli amici e occasioni di svago. Una piccola e improvvisa grana professionale, ma niente che sia in grado di rovinarvi la domenica. Leone, molti e tutti favorevoli gli stimoli planetari che si addensano sul segno. Con buonsenso e furbizia potete sfruttarli a vostro favore. Le buone occasioni non mancheranno, ma dovete fare attenzione a non sopravvalutare le vostre capacità. Vergine, nascondersi dietro a un dito non serve, soprattutto non è nella vostra indole. Non resta che affrontare a viso aperto le probabili grane. Raccogliete idee ed energie e partite alla carica. Sapete bene dove dovete puntare per avere la meglio. Bilancia, interessi culturali in primo piano oggi. Non avete che da farvi venire un'idea per sfruttare a pieno l'occasione. La domenica vi aspetta. Consultate guide e cartine, fate qualche telefonata e siete pronti per organizzare al meglio la giornata. Scorpione, piccoli avvenimenti apparentemente di poco conto punteggiano la vostra domenica. In realtà vi si prepara una serata con i fiocchi. Non prendete impegni per questa giornata. Qualcuno vi sta organizzando una meravigliosa sorpresa. Sagittario, la luna si è attestata nell'altra metà del cielo, decisa a rimanerci per un po'. Non potete fare altro che prendere le dovute contromisure, il che vuol dire soprattutto che in una situazione abbastanza delicata non dovete assolutamente strafare. Capricorno, ci sono tante piccole incombenze da sbrigare qualche questione in sospeso da definire prima di potervi godere in tranquillità le ferie. Perciò non esitate ad approfittare anche delle giornate di festa per concludere ciò che avete in ballo. Acquario, questa invitante domenica di agosto si annuncia nel migliore dei modi possibili, portando con sé una ventata di allegria e di vivace socialità. Quasi non vi sembra vero di poter finalmente ritagliarvi una giornata su misura come più preferite. Pesci, difficilmente potrete disporre della lucidità e della prontezza di riflessi che una serie di eventi poco favorevoli invece richiederebbero. Ma non è il caso di angosciarsi la parola d'ordine e prendere tempo per studiare le giuste contromosse.